By Marco Fisarmoniche, in collaborazione con SA Project Edizioni Musicali e Alberici Trasporti Stradella, presenta Fisarmonicando sedicesimo anno. Su te mai le scale, hai sempre preferito l'ascensore, io non ci ho mai pensato a lavorare, guadagni con la disoccupazione, con l'aria della fabbrica sto male, te l'ha certificato che dottore, ma non ho cacciato anche da casa mia, hai l'obbligo di firmare l'osteria, ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, di giorno barbara dolcetto, la sera prosecco e moscato sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino, e oh, va avanti te che arriverò, e oh, ma sì domani ci penserò, e viva il buon vino l'ho fatto per bere, e viva la vita se è pieno il bicchiere. Tu sei lo specialista del 3-7, di briscola, di scopo e ciabano, hai perso adesso, tocca a te pagare, dai paga a te, che dopo te li do, e sera su, ritorna la marietta, e finalmente mi riposo un po', per te fatica anche a far l'amore, se mi addormento che col pane ho, ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, di giorno barbara dolcetto, la sera prosecco e moscato sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino, e oh, va avanti te che arriverò, e oh, ma sì domani ci penserò, e viva il buon vino l'ho fatto per bere, e viva la vita se è pieno il bicchiere. E oh, la mattina la urino, e oh, va avanti te che arriverò, e oh, ma sì domani ci penserò, e viva il buon vino l'ho fatto per bere, e viva la vita se è pieno il bicchiere. E viva il buon vino l'ho fatto per bere, e viva la vita se è pieno il bicchiere. Eccoci nuovamente qua, zona rossa, zona bianca, zona gialla, arancione, grigio, blu perla. Allora, facciamo l'arcobaleno. Ma noi siamo sempre qua, ciao Claudio. Ciao Marco. Con le mille problematiche, perché insomma, gli spostamenti, tu arrivi, devi attraversare uno, due, tre, quattro. Quattro comuni. Sì, cinque con il tuo. Cinque, quindi? Sì, quattro, cinque comunque. Ti hanno mai fermato, è così una domanda? No, 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 no. Beh, ma anche se ti fermassero, ti chiederanno un autografo. Eh sì, perché mi conoscono tutti, no? Però io ho la mia autocertificazione. Firmata, così mi arrestano. Firmata, così al limite arrestano. Dove andate lei? Studio da Vai Marco, siamo in fatto il programma televisione. No, vabbè, comunque tutto... No, vabbè, tutto regolare, no? Tutto regolare, anche perché noi vogliamo essere dei vostri sempre, perché ci riusciremo. Benvenuti a Fisermonicando. Benvenuti. Tante novità. Ma di novità ce n'è qualcuna. Ne parliamo dopo, dai. Perché è uscito finalmente il CD. Finalmente, sono arrivati i CD, sì, sì. Di Giorgio. La proposta che avevamo promesso, un pacchettino regalo. Esatto. Allora, ti saluto, lo faccio subito perché mi ha tartassato. Ah, davvero? C'è qualcuno che mi saluta? Sì, aspetta che metto gli occhiali di precisione. Come sempre il commercialista. Che mi saluta un commercialista, no? Ciao Claudia. Sì. Sono un tuo ammiratore. Vorrei ascoltare una tua canzone, penso sia in scaletta. Lei è messa in scaletta, sì, sì. Massimo Di Binasco. Massimo Di Binasco. Va bene, lo segno così dopo gliela dedichiamo. Poi, mentre sei fantastica, bellissima, insomma. Sì, vabbè, bellissima, fantastica. Ho sapere l'età? Eh? Ho sapere l'età? Vuole sapere la mia età? No, 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 mi ha messo anche l'età. Quanti anni ha? Quaranta. Eh, non ci credo. È il vabbè, è il vabbè. È il vabbè. Beh, se ci ha capito, eh. Massimo? Di Binasco. Ok, poi gliela facciamo la dedica allora. Poi, questa la faccio dopo perché è il nostro, ma le facciamo dopo. Facciamo dopo? Perché io mi dimentico spesso. 3-3-3-5-3-3-9-9-3-6, saluto la mamma di Claudia come sempre. Ti saluto sempre. Cominciamo con la musica, dai, dai. Allora andiamo con Dario. Gelfi con un vals scabroso. E poi ci saranno, eh, i Philadelphia, grande richiesta. Però mi hai fatto una promessa. Ti ho fatto una promessa, di questa monella capricciosa. Ti prometto, dovrei averlo. Lo devo ricercare. Il video è proprio originale. Non dico che questo è un originale, ma è proprio il primo video che abbiamo fatto con Brunali. Vedete la Claudia qualche anno fa. Tanti anni fa. Tanta roba, eh. 20-21 anni avevo. Tanta roba, eh. Non qui, eh, non adesso. Però ve lo prometto, vi prometto che lo cerco. Tanta roba, eh, ragazzi. Tanta roba, eh. E poi c'è Alejandro Rasa, una bellissima mazzurca. Ariosa. Tanta roba, eh, ragazzi. Tanta roba, eh, ragazzi. Grazie a tutti. 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 qualche anno fa e poi continuiamo ci raccontiamo un attimo abbiamo anche appeso un noto fisarmonicista alla gru perché stava in un'altezza di 10 metri e sono alla fisarmonica adesso non succedono più quelle cose non facciamo il nome di questo fisarmonicista ciao che salutiamo vai Paolo Bagnasco con un tango Ablamé e poi Vittorio Borghese grande richiesta il barbiere di Siviglia e Marco Beffa Arabes Grazie a tutti 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 purtroppo con questo DPCM ancora chiuso con la sara cinesca proprio materialmente però stiamo lavorando all'interno, stiamo producendo quindi chiamate tranquillamente, noi consegniamo in tutta Italia perché fra regione e regione è il mio messaggino tra regione e regione purtroppo è impossibile per noi noi consegniamo in tutta Italia quindi mi raccomando perché sono momenti particolari un po' per tutti aiutateci insomma aiutateci è inutile che ci giriamo il torno no no ma infatti aiutateci la realtà è questa perché si rischia veramente poi di rompere un giocattolo che dura da tantissimi anni sia per l'orchestra che per un'attività quindi se non funziona un'attività, se non funziona l'orchestra Claudia non ci sarà, la televisione scomparirà eh sì, non ci sarà più niente non facciamo i figli, questa è purtroppo questa è la realtà, hai detto la verità la realtà dei fatti, questo è un prodottino sono un po' stralunato stasera prodottino da studio 37,96, 41,120 anche la 48 bassi il prezzo è giusto ok? il prezzo è giusto quindi venite a... sono un po' fuori sarà mica la glicemia la glicemia Pordenone, fammi sapere qualcosa fai lì sapere qualcosa scure sono in tv ecco, va bene vai tu perché sono un po' strano dai dai che andiamo allora Antonio Saracino con un fox passa il treno poi Alex Villani giusto? più Barracuda Birbantina e poi ci sarà Daniele Violi a grande richiesta un amore così grande a grande un amore così 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 aus€ offertissima fisa armonicando 2020 amici 5 cd più uno in omaggio a soli ria 50 euro spese e dispedizioni i migliori fisarmonicisti li trovi solo a fiisa armonikando Chiama subito 0385 40501 oppure 348 354 1865. Ricorda, offertissimo a Fisarmonicando 2020. Fisarmonicando Immaginate, infatti. La pillola blu, il mago Merlino che la pillola fa il miracolo. Sì, sì, che fa miracoli. Ti metto un mago. Se non questa puntata, alla prossima. Ok? Ci salutano, questo qua. In streaming da Pordenone. Sta guardando, tante persone guardano in streaming. Sì, sì. Tantissime. Io metto il sorrisino, poi scrivono. Insomma, fa piacere, insomma, perché la streaming web tv sarà sicuramente nei prossimi anni, non accenderemo più. Non ci sarà più nemmeno. In che il televisore dice? Tutto i streaming. Tu hai qualcosa di streaming? Tipo Netflix? No, 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 no. Non ancora. Bellissimo, bellissimo. Non è pubblicità. No, 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 comunque non ancora. Eh, lo so. Tu ti metti lì e ti diverti. Tu ce l'hai, sì. Sì, sono dei film storici bellissimi. Bellissimi. Anche perché in televisione non fanno mai niente. Cioè, parliamoci chiaro. In televisione cosa fanno? E adesso poi cosa stanno facendo? Anche perché ho Giorgio che ultimamente è incavolato nero. Ah, sì? Sì, sì, sì. Perché non accetta un po' tutto quello che si vede in televisione. È un po' inaccettabile. Tranne un programma. Che è il? Fiservo Nicando. Il nostro. Il nostro. Va bene. Come siamo modesti. Ma no, perché ti diamo compagnia a tutti. In tutto il nord Italia, Calabria, Sicilia. Esatto, esatto. A tutta Italia. Hai un po' di occhiali, amore. Eh, sai. No, non lo so, forse non ho gli occhiali, allora. Però, guarda, ti dico che dormo, sono sempre in casa. E gli occhiali sarà l'età. Gli occhi gonfi gonfi. Sarà l'età. Ho gli occhi gonfi. Vai, vai, poi ti facciamo un primo piano. No, no, lascia stare, Giorgio. Vai, vai, vai. Lascia stare. Vai, Giorgio, poi gli fai un primo piano. Marco Porro, un passo doble. Amigos. E se sei qualcos'altro, Marco invece è il fisioremonicista. Vai, 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 vai. Giorgio Millani con Argentino. E poi devo fare la dedica a Massimo di Binasco con una mia canzone, La tua immagine. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.